Paren Project Onlus è un'associazione di genitori e bambini ragazzi di affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker, come dice il nome stesso è un'associazione di genitori dall'inglese Parents e è un progetto nello stesso tempo perché è nato con lo scopo di rispondere alla domanda principale dei genitori di bambini affetti da distrofia muscolare di Duchenne. La domanda era ovviamente quella di una terapia e quella di una cura e nell'arco dei 16 anni della sua fondazione ha cercato di trovare una risposta a questa domanda anzitutto finanziando la ricerca scientifica, cercando di stimolare in maniera enzimatica la collaborazione tra ricercatori, enti pubblici, governi, non solo in Italia ma in tutto il mondo per accelerare il percorso verso una terapia e verso una cura di questa malattia. Nello stesso tempo è un progetto perché come un progetto rivede costantemente lo scopo per cui è stato pensato ed organizzato e nell'arco dei 16 anni ci siamo accorti che sicuramente la terapia rappresenta per noi l'arrivo finale di una tappa importante, ma nello stesso tempo dobbiamo insegnare i genitori a vivere nel quotidiano e quindi prendersi cura dei loro figli, di tutto quello che vuol dire avere a che fare con le problematiche complesse di questa malattia. La distrofia muscolare di Duchenne di fatto è una malattia genetica, non sempre solo ereditaria, cioè quindi non trasmessa solo direttamente dai genitori, ma a volte è un primo caso, un caso su tre, un nuovo caso, quindi non si riesce neanche a prevedere quando si possa verificare, può in teoria colpire ognuno di noi. È sicuramente la malattia più comune tra le malattie rare, tutto questo fa sì che comunque sia una malattia che ha sempre suscitato molta attenzione intorno a sé, soprattutto perché viene scoperta in una fase in cui i bambini sono molto piccoli, in cui di solito la progettualità di una famiglia su un bambino è estremamente elevata e ci si accorge di dover completamente rivedere tutti i propri progetti, perché si scopre che il proprio figlio probabilmente smetterà di camminare intorno agli 8, 9, 10 anni, probabilmente non avrà un'aspettativa di vita superiore ai 20 anni e questo è un qualcosa che ovviamente annienta tutte le aspettative delle famiglie. Questa è la ragione per la quale è importante che esista un'associazione di pazienti e di familiari, che questa associazione sia bene inserita nei suoi rapporti in un network clinico, scientifico e istituzionale, perché se non si realizza una collaborazione molto stretta a tutti i livelli, già dalle prime fasi della scoperta della malattia, si rischia di dover fare un lavoro doppio, triplo e sicuramente si fanno danni gravissimi. La comunicazione della diagnosi ad esempio in questa malattia è un momento molto delicato, in cui si distruggono tutti i sogni di una famiglia che poi andranno ricostruiti, ovviamente la soluzione migliore è quella di non distruggerli, quella di cercare di comunicare questa diagnosi con le dovute cautele e con delle modalità, dei protocolli ben definiti che aiutino a mantenere sempre una quantità di speranze significativa per poter proseguire la propria vita serenamente. Nello stesso tempo è una malattia che da un punto di vista clinico colpisce tutti i muscoli, quindi influisce sulla possibilità di deambulare, questo crea ovviamente delle grosse difficoltà logistiche per l'organizzazione della vita delle famiglie, quando i ragazzi sono più grandi l'interazione con tutti gli altri protagonisti della nostra società diventa cruciale, quindi la scuola diventa un momento importante e l'ingresso nella società di questi ragazzi va tutelato. Questa è una malattia per la quale fino a dieci anni fa l'aspettativa di vita era estremamente limitata, parliamo di 14 o 15 anni, per due ragioni principali, problemi respiratori e problemi cardiaci. Quello che Parent Project è riuscito a fare in questi anni è a fare in modo che un certo numero di conoscenze importanti venissero trasferite alle famiglie, cosa che prima non era stata ancora realizzata, c'era un vuoto totale tra clinici, ricercatori e famiglie o pazienti in generale. Il passaggio di queste informazioni ha fatto sì che comunque si conquistasse un raddoppio delle aspettative di vita, semplicemente stando attenti a quelle che erano le due ragioni principali che turbavano appunto questa aspettativa di vita, quindi problemi respiratori che sono stati tenuti sotto controllo e problemi cardiaci che possono essere tenuti sotto controllo con dei farmaci. Quindi oggi i nostri ragazzi sono in realtà proiettati verso sicuramente la terza decade di vita e probabilmente supereranno anche la quarta nel futuro, perché comunque la ricerca come abbiamo sentito e come sentiremo sta andando avanti. A questo punto il ruolo di Parent Project in questi prossimi anni sarà quello di far comprendere alle famiglie l'importanza dello sviluppo dell'autonomia dei nostri figli. Noi abbiamo fatto tanto in questi anni per fare in modo che da un punto di vista clinico questi ragazzi fossero mantenuti nelle migliori condizioni possibili. Oggi dobbiamo fare in modo che le famiglie comprendano l'importanza di far studiare i ragazzi e di ricordare a questi ragazzi che hanno un futuro e lo avranno sicuramente lungo. Il nostro ruolo sarà quello di predisporre la società ad accoglierli nella maniera migliore possibile. Questa è la ragione per cui siamo estremamente impegnati in progetti che studiano e ottimizzano la preparazione lavorativa dei nostri ragazzi, proprio per fare in modo che poi il prossimo stadio sia la conquista dell'autonomia. Fondamentale perché senza l'autonomia non si è persona a tutti gli effetti e quello che noi vogliamo non è solamente un aumento della sopravvivenza, un aumento dell'aspettativa di vita, ma una conquista totale della qualità di vita dei nostri ragazzi in una società totalmente integrata in cui il rispetto sia fondamentalmente la prima cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno.